Buonasera è stato un tremendo show, è stato molto bello, è stato molto bello, 5 minuti, come hai famiglia? In 5 minuti, mi ha fatto stop, mi ha fatto bello, mi ha fatto bello, mi ha fatto più famiglia? Si, non è che, 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 non è bello, non è che, se posso, non è che, è il tempo, non è che, è che, il tempo, il tempo, ma, No, no, no. l'olio per me non state come andrari però come andrari perchè voi perchè voi oggi e voi l'arri che voi ahhh per il tempo ne per me è una dattima per me è una storia che sono sempre di questo il filmo e se mi no e 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 vader, moeder, ronnie, 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 e 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